la juventus torna alla vittoria passa il turno di coppa italia va ai quarti di finale di coppa italia battendo il monza grazie al ritorno al gol di federico chiesa perché questa è una juventus che segna l'inizio con ken che vede poi il pareggio i valoti ma la partita la sblocca un euro gol di chiesa che ritrova il gol ma soprattutto che gol un gol alla chiesa mi è sembrato di rivedere il vecchio chiesa che non so che incantava euro 20 20 durante gli europei o quando nell'anno di pirlo faceva un po quello che voleva insomma un chiesa veramente eccezionale che parte dalla panchina ma analizziamo per bene questa sfida tra juve e monza che ha visto una juventus che inizialmente si è messa in campo col 3 5 2 ma con molti giovani e cose positive ma anche cose negative partirei dalla cosa positiva e andrei di singoli perché a livello di collettivo devo essere sincero ci sono state lunghi tratti della gara che francamente non mi hanno entusiasmato mi è sembrato una juventus un po un po statica però samuel hilli junior signori sulla sinistra questo è un operatore che in questo momento può fare la differenza perché a dribbin perché salta l'home perché molto rapido e molto spesso le azioni più pericolose partono da lui è vero che l'assist per i gol di kenner dell'uno a zero parte da destra lì dove c'è mckenny che fa un ottimo cross in mezzo e colpite sei kenner ed è gol però a me mckenny sulla fascia non convince letteralmente proprio zero non mi convince mckenny sulla fascia non mi convince neanche i miretti che secondo me si è un po bloccata alla crescita di questo ragazzo non vedo mai spunti di chissà quale grande livello da parte di miretti mentre su fagioli devo dire che vedo sempre delle ottime cose lì davanti sule ci mette qualcosa ma ancora non mi sembra il il sule che che vorremmo vedere tutti io personalmente preferirei vederlo al posto di mckenny con un trequartista alle spalle di mili di ken ma al di là di questo poi dopo il pareggio di valoti di testa e un po di blackout bisogna essere sinceri della juventus che nel secondo tempo se non è avuto qualche momento di blackout poi però entrano i i giocatori più importanti e quindi arriva chiesa arriva di maria e lì si sblocca la gara con un cambio anche di modulo perché entra alexandro si mette la difesa 4 4 2 3 1 con locatelli e paredes davanti la difesa con chiesa largo a sinistra mckenny e continua a giocare largo a destra ma che gli serve anche un po in fase di copertura e di maria trequartista tra l'altro di maria ha provato sul finale un gol di rabona che se solo faceva veniva giù lo stadio ma al di là di quello poi grazie un'intenzione però individuale di chiesa arriva il gol che sblocca la gara e ripeto è una juventus sempre molto legata alle giocate dei singoli perché a livello di collettivo francamente continua a vedere delle defiance sono stati dei tratti della gara in cui francamente vedevi i giocatori che da soli prendevano palla cominciavano a correre e chi si è visto si è visto mentre il monzo un po più organizzato la giocata comunque di casa la risolve leva qualche paura allo stadium che c'è stato un momento in cui c'è stato un po di paura è comunque una juventus che vince che va ai quarti di finale ed è una juventus che va ai quarti di finale dove affronterà la lazio che tra l'altro oggi ha battuto il bologna nella zona un po più pericolosa di questa coppa italia il tabellone perché il tabellone vede inter atalanta e lazio juventus d'altro lato una virtù anche dell'eliminazione di napoli e milan c'è cremonese roma e fiorentina contro torino staremo a vedere la domanda che faccio a questo punto è la coppa italia può essere una buona occasione per vincere un trofeo ditemi la vostra prima un bel dibattito qui sotto nei commenti qui 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 qui